Una nuova serie dedicata alla caccia a palla alle diverse specie di ibex e camoscio nella penisola iberica. Scopriremo habitat, biologia, gestione e conservazione di questi ambiti animali. Finalmente il mio trofeo di macchia mondiale. Un'esperienza che non dimenticherò mai per tutta la vita. Spagna nel Mirino, dal 9 ottobre ogni domenica alle 21.30 in esclusiva su Caccia, canale 235. Grazie a tutti.